Motivazioni diverse, stesso risultato, apertura dell'anno scolastico slittata per i piccoli alunni di due scuole, a Cassino ed a Ceprano. Nella città martire il provvedimento riguarda la scuola materna di Via Rigni, che resterà chiusa fino al 20 settembre per fare in modo che vengano eseguiti dei lavori urgenti. Interventi che si sono resi necessari perché qualche settimana fa la scuola si è completamente allagata a causa della rottura di alcune tubazioni. Circa 10 centimetri di acqua per alcuni giorni hanno ristagnato a terra, provocando il distacco di tutto il pavimento in linoleum all'ingresso e nelle aule della scuola. Ci sono stati diversi sopralluoghi ed è emersa la necessità di intervenire in modo urgente per garantire la sicurezza dei bambini e del personale scolastico. L'ordinanza del sindaco Giuseppe Golini Petrarcone è stata firmata in giornata. I lavori cominceranno lunedì e se tutto filerà liscio, il 21 i bambini potranno finalmente iniziare il loro anno scolastico. A Ceprano invece la scuola materna di Chiusa Grande rimarrà chiusa ancora per qualche giorno perché sono stati trovati degli escrementi di topo. Lo comunica il sindaco Marco Galli con una nota nella quale si dice costretto a dover intervenire con una ordinanza. Spiega che l'ufficio tecnico del comune è intervenuto tempestivamente in modo opportuno, adottando tutte le procedure necessarie a garantire la sicurezza attraverso la corretta deratizzazione e disinfezione dei locali. Il sindaco aggiunge che il plesso di Chiusa Grande, proprio per la collocazione in cui si trova, può essere esposto a questi problemi, ma lancia comunque un appello ai residenti in quella zona affinché depositino in modo corretto i secchi della differenziata. Anche in questo caso la scuola rimarrà chiusa fino al 20 settembre.